Che sforzo comporta un evento di questo tipo? Immagino sia grande la soddisfazione in chiusura di questa tre giorni. Lo sforzo è enorme, organizzativo, in quanto sono format molto complicati da organizzare. E in più c'è la complicanza del Covid che sicuramente non aiuta l'organizzazione a gestire le cose. Però bisogna fare veramente un plauso al comitato organizzatore. Hanno organizzato le gare nel rispetto dei protocolli fisici, federali, anti-Covid. E anche i ragazzi, le ragazze tecnici, atleti, ufficiali di gara hanno veramente rispettato le regole. E questo ci aiuta a poter finire la stagione veramente di intusamente. Si è respirato una specie di normalità, seppure con tutti i dispositivi del caldo? Sì, diciamo lo sport, lo cilifondo, la possibilità di fare gare da questa apparenza di pseudonormalità, una bolla, diciamo così, dove gli atleti possono veramente far legare gli allenamenti e diciamo estagnarsi a quello che è veramente il problema della pandemia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.